Buongiorno, mi chiamo Forrest, Forrest Gump. Vuole un cioccolatino? Potrei mangiarne una tonnellata questi qui. Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Con le scarpe devono essere comode. Commetto che con quelle ci camminano tutto il giorno e non sente niente. Magari ce l'avessi così anch'io. Mi fanno male i piedi. Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose. Dove va? Dove è stata? Quante scarpe che ho messo io. Scommetto che se mi sforzo tanto riesco poi a ricordare il primo paio.